Armellino centralmente, Tremolada, prende la mira, vai porta! Meraviglioso Luca Tremolada! Sono nove in stagione sotto la Montagnani, corsa infinita e abbraccio con i suoi tifosi al 18, Modena 2, ancora Matelica 0. Saetta imprendibile per Avella, il Modena raddoppia dopo Armellino. C'è la Retti magnifica di Tremolada, controllo e tiro, perfetto, sotto la traversa. Esecuzione magistrale per un giocatore.